Il vento è una forza che si manifesta attraverso il movimento di una massa d'aria nell'atmosfera terrestre. Il vento si origina principalmente a causa della differenza di pressione atmosferica. Queste variazioni di pressione sono il risultato di molteplici fattori, tra cui il riscaldamento solare, effetti topografici come montagne e valli, differenze di temperatura tra regioni e la rotazione terrestre. Le caratteristiche principali del vento sono l'intensità e la direzione.